Dalla cronaca al mondo del lavoro, perché a Saline di Volterra è stato raggiunto un accordo con i lavoratori della Smith Biz che hanno dato il via libera all'accordo tra azienda e sindacati, esulta la regione toscana. L'assemblea dei lavoratori della Smith Biz di Saline di Volterra ha dato il via libera all'accordo tra azienda e sindacati che prevede il mantenimento del sito produttivo e di 78 posti di lavoro. Restano da definire eventuali prospettive lavorative per gli altri dipendenti circa 100 che non rientrano nell'accordo. Con i voti dei lavoratori, commenta il presidente della regione Enrico Rossi, è stata salvata la presenza produttiva di questa importante azienda della Val di Cecina, malgrado alcuni tentativi di far saltare l'accordo su un terreno estremista e velleitario, ha prevalso il senso di responsabilità e sono stati salvati una realtà produttiva e 78 posti di lavoro. Anche questa volta il risultato ottenuto dall'impegno comune di operai, sindacati e istituzioni democratiche è importante. Un passaggio fondamentale, sottolinea Rossi, anche in vista della prospettiva di occupazione per gli altri lavoratori. La regione toscana, spiega infatti, il governatore sta lavorando con Enel e Eni su una proposta avanzata dalla stessa regione per la creazione di un centro servizi per la manutenzione e riparazione logistica di attrezzature per la perforazione e impianti geotermici, sinergico con il sito produttivo della Smith. Su questo tema anche il governo si è assunto il compito di convocare la casa madre a cui fa riferimento la Smith, ovvero la Schlumberger, a un tavolo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, insieme a Eni ed Enel. Grazie a tutti.